Oggi, disse Max in cucina, hanno preparato le caldarroste cotte in frigitrice d'aria, una ricetta facilissima che vi conquisterà il primo assaggio. Per prima cosa, lavate bene le castagne, asciugatele e poi incidetele. Mettetele dentro una ciotola. Ed aggiungete dell'acqua fredda, fino a coprirle bene. Lasciate riposare una ventina di minuti. Trascorso il tempo, mettete le castagne direttamente sulla griglia della frigitrice d'aria. Mettetele a cuocere per 20 minuti a 200 gradi. Verso la metà della cottura, aprite il cestello e scrollate bene le castagne, in modo da avere una cottura omogenea. Eccole pronte, le vostre caldarroste. Lasciate riposare... Lasciate riposare... Grazie.